è un rasa erba è potente e preciso ti darà il prato bellissimo che hai sempre desiderato ogni giorno della settimana e la cosa migliore è che fa tutto da solo ti presentiamo Robomov Robomov è un potente e robusto rasa erba robotizzato che taglierà il prato al posto tuo risparmierai tempo e fatica manterrà il vostro giardino bellissimo sempre tu decidi quando vuoi che Robomov lavori lui partirà automaticamente dalla sua stazione di ricarica taglierà il tuo prato e tornerà alla base per ricaricarsi Robomov è il più potente rasa erba robotizzato del mercato lui taglierà il vostro prato più rapidamente degli altri lasciandolo libero per te la tua famiglia è dotato di un potentissimo sistema di taglio di vera lama mulching l'erba tagliata si decomporrà velocemente diventando fertilizzante Robomov può gestire giardini fino a 500 metri quadrati lavorando agevolmente in ogni tipo di terreno è estremamente preciso ed è in grado di tagliare anche lungo i bordi non dovrai più sprecare tempo a tagliare i bordi con un rifinitore sarai sicuro che con Robomov la tua erba sarà in salute il tuo giardino apparirà fantastico e tu avrai più tempo per le cose che ami Robomov lui taglia tu no